Lascia che ti racconti una storia. In una galassia lontana lontana, per essere più precisi a 2600 anni luce di distanza, c'è un esopianeta chiamato Kepler 1658b. È un gigante gassoso che assomiglia al nostro Giove. Ma ciò che lo differenzia da Giove è che questo povero pianeta è condannato. Sta girando a spirale verso la sua stella madre e alla fine ci sarà una violenta collisione. Ma la cosa più interessante? Gli astronomi sarebbero rimasti totalmente all'oscuro di questo fatto se non fosse stato per un minuscolo indizio. È stato un cambiamento davvero minuscolo nell'orbita del pianeta. Non se ne sarebbe accorto nessuno se gli astronomi non avessero confrontato per più di un decennio i dati ricevuti da diversi telescopi. Più precisamente gli scienziati hanno osservato il passaggio di quasi Giove tra il nostro pianeta e la sua stella madre una volta ogni due settimane negli ultimi 13 anni. E hanno notato che l'orbita del pianeta sta diventando sempre più piccola. Ogni anno Kepler-1658b ha bisogno di 131 millisecondi in meno per completare un giro attorno alla sua stella. Se questa tendenza continua, il pianeta è destinato a scontrarsi con la sua stella tra 2,5 milioni di anni. Anche prima di questa scoperta, i modelli computerizzati prevedevano che alcuni pianeti avrebbero potuto incontrare la loro fine schiantandosi contro le loro stelle. Ma questa è la prima volta che gli astronomi hanno una prova reale di un tale risultato, misurando cambiamenti quasi impercettibili nell'orbita di un pianeta. Ora sappiamo di per certo cosa succede quando un pianeta sta per schiantarsi contro la sua stella, anche se probabilmente non saremo in giro per testimoniarlo. Ma lascia che ti dica qualcosa in più sul pianeta condannato. È stato scoperto da Kepler Space Telescope della NASA, ora in pensione. È stato lanciato nel 2009 e la sua missione era trovare pianeti in orbita attorno ad altre stelle, ovvero esopianeti. E il primissimo esopianeta individuato dal telescopio era proprio il gigante gassoso di cui abbiamo parlato. Ma gli astronomi hanno impiegato circa un decennio per confermare che questo oggetto spaziale fosse davvero un esopianeta. Questo mondo è come una versione più densa di Giove. Voglio dire, prendi 6 volte Giove, fallo rotolare in una palla larga circa 1,1 volte e voilà! Il pianeta è legato in modo ordinato alla sua stella madre, il che significa che compie un giro completo ogni volta che termina un giro intorno alla stella. Di conseguenza lo stesso lato del gigante gassoso è sempre rivolto verso la stella. È lo stesso che succede alla Luna. Il nostro satellite naturale è bloccato in modo mareale sulla Terra, ecco perché vediamo solo metà della sua superficie. Ora, cosa sta facendo cadere quasi Giove nella sua stella? Lo stesso processo che sta allontanando la Luna dalla Terra. Quando una Luna orbita attorno a un o un pianeta orbita attorno a una stella, le loro forze di gravità interagiscono e agiscono sulla massa dell'altro. Questo è ciò che causa le maree sulla Terra. Questo strattone rilascia un po' di energia. Può far accelerare e rallentare un oggetto. Nel primo caso un corpo spaziale si sposterà più in alto. Nel secondo inizierà a muoversi più in basso. E questo è esattamente ciò che sta accadendo al gigante gassoso. La sua stella madre è 1,5 volte la massa del Sole, quindi non c'è da stupirsi che le sue forze di marea stiano gradualmente rallentando il movimento del pianeta, facendolo cadere verso l'interno. Sembra tutto un po' tragico, ma questa potenziale collisione non è di gran lunga la cosa più strana che accade nello spazio. Diamo un'occhiata ad altro. Ad esempio, Betelgeuse, una gigante gassosa nella costellazione di Orione, ha iniziato a oscurarsi nel 2019. Questo ha confuso gli astronomi. A quel punto la stella si era già gonfiata in proporzioni enormi. Se dovesse sostituire il nostro Sole, la sua superficie esterna si estenderebbe ben oltre l'orbita di Giove. E poi Betelgeuse è diventata più debole nell'autunno del 2019. Questo processo è continuato fino a febbraio 2020. I cambiamenti potevano essere visti ad occhio nudo. Non c'è da stupirsi, la luminosità della stella era diminuita di due terzi. A quel tempo gli astronomi erano sicuri che Betelgeuse stesse per esplodere in una supernova. Hanno continuato a osservare la stella, ma inaspettatamente è tornato alla sua normale luminosità. Grazie al telescopio spaziale Hubble, gli scienziati hanno capito che la stella aveva espulso parte del suo materiale. E questo ha parzialmente bloccato la sua luce. Che ne dici di esopianeti di zucchero filato? Quelli sono pianeti particolari al di fuori del nostro sistema solare. Chiamati anche super sbuffi, hanno la densità più bassa mai scoperta. Questo conferisce loro un aspetto arioso e soffice. Ma nonostante sembrino il regalo più popolare del parco dei divertimenti, tali pianeti sono enormi. A pensarci bene, gli scienziati spesso scoprono cose strane nello spazio. Alcune sembrano macchie sfocate. Ma c'è un tipo di questi blob che non assomiglia a nessun altro corpo spaziale conosciuto. Gli Odd Radio Circles sono visibili solo nei radiotelescopi. Potrebbero essere i resti di Super 9, ma alcuni astronomi arrivano al punto di affermare che potrebbero essere segni di wormhole, ossia ipotetici tunnel tra due punti molto distanti nello spazio. La missione Juno ha notato qualcosa di strano nell'atmosfera superiore di Giove. L'insolito fenomeno consisteva in folletti blu ed elfi che volteggiavano sopra la superficie del pianeta. Questi sono due tipi di lampi luminosi di luce che appaiono per brevi periodi di tempo, pochi millisecondi. Si estendono su e giù verso la superficie del pianeta. Sulla Terra, tali lampi di solito si verificano all'altezza di 96 km sopra massicci temporali. I pianeti erranti non orbitano attorno alle loro stelle, forse perché non ne hanno. Questi corpi spaziali fluttuanti viaggiano verso l'universo e possono finire letteralmente ovunque. Sono anche piuttosto difficili da trovare. Tali pianeti producono solo emissioni deboli. Ma non molto tempo fa, gli astronomi hanno individuato il più piccolo pianeta errante nella Via Lattea. È più piccolo della Terra, ma un po' più grande di Marte. I Fast Radio Burst sono lampi luminosi di onde radio. Contengono tutta l'energia che il nostro Sole produce in giorni, ma durano solo pochi millisecondi. La maggior parte di questi lampi radioveloci proviene da molto, molto oltre la Via Lattea. Ma di recente gli astronomi ne hanno rilevato alcuni originari della nostra galassia natale. E la loro fonte è una magneta da soli 30.000 anni luce dal nostro pianeta. Se esiste, la pasta nucleare è il materiale più resistente dell'intero universo. Formata dagli avanzi di stelle spente, questa sostanza viene schiacciata in grovigli di materiale simili a spaghetti. Può rompersi, ma solo se applichi 10 miliardi di volte la pressione necessaria per frantumare l'acciaio. Non molto tempo fa, gli scienziati hanno scoperto che una delle stelle più massicce del vicinato era appena scomparsa. Era una stella a 75 milioni di anni luce dalla Terra. Normalmente sarebbe troppo lontano perché gli astronomi vedano chiaramente le singole stelle. Ma solo a meno che non siano enormi. E la stella di cui stiamo parlando era enorme. Brillava 2,5 milioni di volte più del Sole. Per l'ultima volta, gli astronomi hanno visto la stella nel 2011. Decisero di esaminarla più da vicino diversi anni dopo, ma era già troppo tardi. La stella era scomparsa. Stelle così massicce di solito si spengono in supernove estremamente luminose. Ma gli astronomi non hanno notato nulla del genere in questo caso. C'è una teoria secondo cui la stella è collassata in un buco nero senza prima innescare una supernova. Si verifica tra le stelle che si avvicinano alla fine della loro vita, ma molto, molto raramente. Ci sono anche i buchi neri. E potrebbero esserci i mini buchi neri, anche se la loro esistenza non è stata ancora dimostrata. A differenza dei loro enormi fratelli, gli ipotetici mini buchi neri potrebbero essere davvero minuscoli, non più grandi di un atomo. La loro massa può variare, ma solo una cosa minuscola potrebbe avere la massa di mille automobili. Una teoria afferma che tonnellate di micro buchi neri potrebbero essere stati creati subito dopo il Big Bang e l'inizio dell'universo. Alcuni scienziati arrivano addirittura a dire che un paio di mini buchi neri attraversano il nostro pianeta ogni giorno. A più di 7.000 anni luce dalla Terra si trova la nebulosa Aquila, un giovane ammasso di stelle di appena 5,5 milioni di anni. Il telescopio spaziale Hubble è riuscito a scattare un'immagine di diverse sagome scure vicino al centro della nebulosa. Quelli sono i cosiddetti pilastri della creazione, una regione attiva di formazione stellare. Guarda, ma quanto è bello! Questo è il nostro pianeta natale, la Terra, e il suo satellite, la Luna. Zoom indietro ed ecco il nostro sistema solare e anche la Via Lattea. E noi siamo un puntino tra un numero infinito di stelle. Ora ancora più lontano, un ammasso di galassie, punti e vortici nello spazio infinito. E poi c'è il super ammasso Laniachea. Questo puntino qui è la nostra galassia. Andiamo avanti. Il super ammasso Idracentauro. Da qui enormi ammassi comprendenti migliaia di galassie non sono altro che un puntino. E poi abbiamo il super ammasso Pavo Indo. Questa è un'area larga 200 milioni di anni luce e possiamo rimpicciolire fino a vedere l'intero universo osservabile. Ogni puntino contiene migliaia di galassie e quadrilioni di stelle. Gli scienziati ipotizzano che il nostro universo assomigli a una bolla. E quella bolla potrebbe entrare in collisione con un altro universo. Sì, potrebbero esistere altri universi. In realtà un numero infinito. E potrebbero essere tutti apparsi dopo il Big Bang. E potrebbero scontrarsi. E si crede che sia già successo. E la prova è qui, nella costellazione dell'Eridano. E si chiama Super Void. È larga circa un miliardo di anni luce. In confronto, la larghezza della nostra intera galassia è di soli circa 100.000 anni luce. Non c'è assolutamente niente in questo posto. E potrebbe essere una traccia di una vecchia collisione tra il nostro universo e un altro. Gli scienziati pensano che si stessero incrociando. E quando la distanza tra loro era minima, le forze gravitazionali delle bolle iniziarono a tirarle l'una verso l'altra. Proprio come due gocce d'acqua che cercano di connettersi quando sono vicine. Ma la velocità degli universi era troppo alta perché potessero continuare a interagire. Quindi l'altro universo ha strappato un pezzo della nostra bolla. Potrebbero esserci state circa 10.000 galassie in quel vuoto. E sono state tutte distrutte o attirate nell'altro universo. Andiamo ai confini del nostro universo per vedere come potrebbe essere avvenuta questa collisione. Siamo a 10 miliardi di anni luce da casa nostra. Qui, in un'altra galassia, vediamo incredibili nebulose di diversi colori e forme. E se guardi nell'altra direzione, c'è un enorme muro che si muove verso di noi. Tutti questi puntini brillanti sono enormi galassie che stanno per scontrarsi con noi. Ma in realtà è uno specchio enorme che riflette solo il nostro universo. Qui lo spazio-tempo è distorto e inizia a essere trascinato in un altro universo a una velocità fortissima. A questo punto, le leggi della fisica potrebbero semplicemente smettere di funzionare. La gravità potrebbe scomparire del tutto. E con essa, tutte le stelle esploderebbero e le persone sulla superficie dei pianeti rimarrebbero in assenza di gravità. Ma se gli universi non interagissero, schiantandosi invece l'uno contro l'altro, le cose sarebbero molto più spaventose. L'enorme quantità di energia provocata dalla collisione causerebbe un'incredibile esplosione, e questa forza distruggerebbe ogni cosa nelle bolle. Tuttavia, le due bolle potrebbero fondersi. All'inizio, tutte le galassie ai margini degli universi potrebbero essere fatte a pezzi, ma poi inizierebbe la fusione. Le galassie inizierebbero a muoversi in modo caotico, volando l'una accanto all'altra, rompendosi, scontrandosi ed esplodendo. La collisione di due galassie è un incidente di enormi proporzioni, e potrebbe accadere anche a casa nostra. La galassia di Andromeda si sta dirigendo verso di noi. È una galassia a spirale grande circa il doppio della nostra, e a circa un trilione di stelle, il doppio rispetto alla Via Lattea. Al centro di questa luminosa galassia si nasconde una bestia oscura, un buco nero. Il suo peso è di più 2,8 zeri rispetto alla massa del Sole. Giganti rosse centinaia di volte più grandi del nostro Sole, pulsar che emettono enormi quantità di energia, stelle canaglia e buchi neri, sia grandi che piccoli. Tutti questi oggetti si stanno muovendo verso di noi a 109 km al secondo. Un viaggio da New York a Los Angeles a quella velocità richiederebbe solo mezzo minuto. Il disco di Andromeda si vede già ad occhio nudo nelle notti senza luna. Col passare del tempo diventerà sempre più grande. Man mano che Andromeda si avvicina, la sua forza gravitazionale inizierà ad allungarsi, formando delle braccia che si dirigerebbero verso la nostra galassia a spirale. Le stelle e i pianeti perderanno le loro orbite. Uno scenario possibile è che un asteroide sconosciuto o anche un pianeta nano dalla galassia di Andromeda si schianterà sulla Terra a una velocità incredibile e a causa dell'impatto il nostro pianeta esploderà proprio come un palloncino. Accidenti! Oppure le stelle potrebbero scontrarsi. Il nostro Sole potrebbe trovarsi di fronte a un'altra stella. La stella più grande inizierebbe lentamente a consumare quella più piccola. Per prima cosa gli ruberebbe gli strati superiori più leggeri e poi la mangerebbe proprio come se fosse un piatto di spaghetti. O forse più simile ai rigatoni. Quando la stella raggiungerà il suo peso critico scoppierà. Questa esplosione distruggerà tutto ciò che la circonda, incluso il nostro sistema solare. Forse l'onda d'urto raggiungerà anche altre stelle vicine. Un altro scenario è che il nostro sistema solare verrà gettato nello spazio oscuro. Immagina una pallina da tennis legata a una corda. Prendi la corda e fai girare la palla sopra la testa come una fionda. Poi lasci andare la corda e fai volare la palla. Questo è ciò che potrebbe accadere al Sole e a tutti i pianeti che lo circondano. Ci ritroveremmo in uno spazio buio e freddo, ma la vita sulla Terra non verrebbe influenzata. Avremmo ancora la nostra stella luminosa per tenerci al caldo. L'unico svantaggio è che tutte le stelle nel nostro cielo notturno scomparirebbero. E la possibilità più probabile è che la fusione di due galassie giganti non avrà alcun effetto su di noi. Il fatto è che la distanza tra stelle e pianeti nello spazio è enorme, quindi possono semplicemente mescolarsi e formare una nuvola gigante. Sarebbe come spalare sabbia fine attraverso un grande setaccio. Gli oggetti non interagirebbero tra loro. Ma la cosa più interessante accadrebbe ai buchi neri al centro delle nostre galassie. In questo momento c'è un denso ammasso di stelle e polvere di stelle attorno a loro. Quando Andromeda e la Via Lattea si avvicineranno, inizieranno a danzare. Sarà il Twist o il Foxtrot? Beh, quando i buchi neri si avvicineranno, inizieranno a ingoiare tutta la materia che li circonda. Biliardi di tonnellate di polvere di stelle colorate, asteroidi e particelle di stelle voleranno verso il centro di entrambi i buchi neri. Potrebbe sembrare che questo processo avvenga lentamente, ma è solo un'illusione. Oggetti superpesanti come i buchi neri deformano la griglia spazio-temporale, quindi il tempo scorre molto più lento vicino ai buchi neri e tutti gli oggetti che sembrano rimasti nell'orizzonte degli eventi, per settimane o mesi, sarebbero in realtà già scomparsi da tempo. Quando finalmente i buchi neri si unirebbero, si fonderebbero in un buco nero supergigante. Ma la sua massa sarebbe inferiore alla massa combinata dei due buchi neri. Parte del loro peso si trasformerebbe in energia. Questa energia verrebbe rilasciata in modo così forte che le sue onde si percepirebbero in altre galassie. Ora, l'enorme buco nero raccoglierebbe il nucleo denso e caldo delle due galassie intorno a sé. A un certo punto, il buco nero si riempirebbe ed emetterebbe potenti getti di energia nello spazio. Questo è chiamato nucleo galattico attivo. È uno dei fenomeni più luminosi ed è la più potente fonte di radiazione elettromagnetica mai conosciuta. Questi getti possono essere lunghi più di 5.000 anni luce. In confronto, la distanza dalla Terra alla stella più vicina, Proxima Centauri, è di soli 4,2 anni luce e l'esplosione che l'accompagnerebbe avrebbe la potenza di 100 esplosioni di supernova. Wow, che schianto! L'onda d'urto di questo evento potrebbe persino raggiungere i confini di una nuova galassia e questo sfogo sarebbe visibile a milioni di anni luce di distanza. Ora ci sarebbero dense nubi di polvere multicolore al centro delle galassie unite. Il peso di queste nuvole sarebbe così grande che inizierebbero a rimpicciolirsi e ad assumere una forma rotonda. A poco a poco diventerebbero così pesanti da comprimere il nucleo e al loro interno inizierebbero delle reazioni nucleari. La temperatura inizierebbe a salire e presto, boom, ecco una supernova. E' un vero e proprio spettacolo pirotecnico al centro delle galassie. Le stelle erutterebbero dalla nebbia e formerebbero nuovi mondi caldi. A questo punto le braccia delle due galassie precedentemente formatesi tornerebbero lentamente alla loro forma originaria. Il centro superpesante della nostra galassia avrebbe una tale forza gravitazionale che colpirebbe stelle nebulose a centinaia di migliaia di anni luce di distanza. Le braccia della galassia si contorcerebbero nuovamente e vedremmo una nuova galassia, la Latteameda o Via Latteda. Ehi, che mi dici di Via Latteameda? Bla bla bla. Beh, sì, sarebbe complicato da pronunciare. Se un asteroide come Apophis colpisse la Terra, verremmo distrutti. Si verificherebbero massicci terremoti e gli tsunami non direbbero tutto. Apophis è un corpo celeste vecchio miliardi di anni che gira nel sistema solare dalla sua nascita. Ma quanto è probabile che questa gigantesca pietra spaziale collida con il nostro pianeta nel 2029? Beh, scopriamolo. Apophis è un grande e pericoloso asteroide scoperto nel 2004 dall'Osservatorio Nazionale di Keith Peake in Arizona. Da allora si è guadagnato orgogliosamente il titolo di uno degli asteroidi più pericolosi mai localizzati. Misura all'incirca 335 metri di larghezza o un po' di più dell'Empire State Building e della Torre Eiffel. È a causa della sua pericolosità, che è stato chiamato Apophis, come la creatura immortale egiziana che si credeva portasse eterna oscurità e distruzione sulla Terra. Nel 2021 i ricercatori hanno avuto l'opportunità unica di studiare questa roccia fluttuante quando è passata vicino al nostro pianeta. Alcuni scienziati dicono che c'è una possibilità del 2,7% che Apophis colpisca la Terra venerdì 13 aprile 2029. La colpa sarebbe dell'effetto Iarkovsky, che spinge leggermente questa roccia spaziale verso la Terra. Questo effetto origina dalla non uniforme emissione di fotoni termici da parte di un oggetto celeste in rotazione, che determina poi una forza esercitata su di esso nello spazio. Questi fotoni emessi possiedono momento e giocano un ruolo fondamentale nella definizione della dinamica del corpo. L'asteroide in questione ha due lati, scuro e luminoso, come la Luna. Il lato luminoso è rivolto verso il Sole ed è più caldo del lato oscuro. Ma il nostro oggetto spaziale ruota, quindi i lati cambiano costantemente direzione e temperatura. Questo cambiamento potrebbe essere dannoso per noi, perché spinge leggermente Apophis verso la Terra. Sfortunatamente nessuno sa come l'effetto Iarkovsky influencerà il percorso dell'asteroide. D'altra parte, durante l'ultimo passaggio dell'asteroide vicino alla Terra nel 2021, gli astronomi hanno utilizzato un radar per prendere misurazioni accurate della sua traiettoria e hanno concluso che Apophis mancherà alla Terra nel 2029 di circa 32.000 chilometri e che poi non ci disturberà per almeno 100 anni. In generale ogni 80.000 anni il nostro pianeta viene colpito da una stella cadente di dimensioni simili a quelle di Apophis. L'ultima volta che siamo stati colpiti da un meteorite leggermente più piccolo è stata nel 2013. Un nuovo velivolo sviluppato dalla NASA chiamato Osiris Rex è stato lanciato nel 2016 per raccogliere campioni da un altro corpo celeste, leggermente meno terrificante, chiamato Bennu. Quattro anni dopo è finalmente arrivato a destinazione. Ha raccolto alcuni campioni, salutato Bennu e iniziato il viaggio di ritorno verso la Terra. I campioni sono stati conservati in modo sicuro in una capsula lanciata nello Utah. Finora è il campione più significativo mai prelevato da un asteroide. Dopo la consegna, la navicella spaziale non ha perso tempo e è iniziato a inseguire Apophis. Attualmente Osiris Rex è stata rinominata Osiris Apex ed è alla costante caccia di Apophis. Con un po' di fortuna, il 2 aprile 2029, quando l'asteroide sfreccerà vicino alla Terra, la navicella raggiungerà Apophis e atterrerà su di esso. Vi rimarrà per 18 mesi raccogliendo preziose informazioni e scattando migliaia di foto. L'asteroide sarà monitorato con l'aiuto di potenti telescopi. A un certo punto però, Apophis si avvicinerà troppo al Sole e il lavoro di monitoraggio sarà esclusiva responsabilità di Osiris Apex. Se vivi in Europa, Asia Occidentale o Africa, sei uno di quei fortunati che avranno l'opportunità di vedere Apophis a occhio nudo. Sarà visibile nel cielo di queste zone nel 2029 e coloro che hanno telescopi saranno in grado di individuarlo di nuovo nel 2036. Osiris Apex intanto avrà sicuramente dei problemi, perché l'asteroide ha una crosta spessa e la navicella non sarà in grado di raccogliere dati tanto facilmente come su Bennu. Osiris Apex ha un propulsore unico che soffierà via tutta la polvere da Apophis durante l'atterraggio. Sarà l'occasione perfetta per analizzare la superficie dell'asteroide e vedere di cosa è fatto. Il macchinario mapperà l'asteroide per un anno e mezzo cercando di rilevare cambiamenti nella sua forma. Tutta questa ricerca ci dovrebbe mostrare come il corpo celeste si muoverà, così da poter progettare meglio i piani per proteggere la Terra da tali oggetti. Nel 2025 la NASA lancerà anche la missione Apophis Pathfinder, prima navicella spaziale ma è atterrata su questo asteroide. Atterrerà approssimativamente un anno dopo il lancio. Inoltre la NASA ha proposto di inviare uno sciame di piccole navicelle nello spazio per aiutare l'umanità a sviluppare tattiche di protezione efficaci contro gli impatti di asteroidi. Sappiamo che Apophis ha avuto origine nella cintura di asteroidi tra Marte e Giove. Negli ultimi milioni di anni questo corpo celeste ha cambiato percorso a causa dell'importante influenza della gravità di Giove. Sembra che quest'ultima favorisca di più il Sole, il che significa che l'asteroide si avvicina di più al nostro pianeta. Ecco perché è classificato come corpo celeste vicino alla Terra. Sono stati condotti molti test e ricerche per trovare un modo di gestire gli asteroidi. Alcune soluzioni includono il trapanare e detonare il corpo spaziale dall'interno o testare nuove tecnologie, ad esempio attaccarvi dei razzi e cercare di deviarlo dalla Terra. Potremmo anche colpirlo con qualcosa che si muove ad alta velocità per cambiarne il corso. Apophis è un asteroide di tipo S composto da roccia e metalli come il ferro e il nickel e con la forma di una nocciolina. Ci può dire molto sul passato e forse anche sul futuro. Campionando questo oggetto spaziale potremmo scoprire come è iniziata la vita sulla Terra e come sono apparse le piante. Ci sono molte teorie che suggeriscono che l'acqua è arrivata sul nostro pianeta tramite un asteroide o una cometa e gli asteroidi sono come preziose capsule del tempo. A differenza delle rocce sulla Terra che hanno subito migliaia di cambiamenti come l'erosione, la maggior parte dei corpi celesti è ancora intatta e più facile da studiare. Quando i meteori cadono sulla Terra si coprono di detriti che è impossibile pulire. Ecco perché è importante studiare Apophis mentre è ancora nello spazio. Inoltre alcuni asteroidi sono composti da metalli preziosi come il platino. Attualmente abbiamo una grande domanda di metalli che usiamo nella produzione e l'estrazione sulla Terra è complicata. Un solo grande meteorite potrebbe contenere perro, nickel, oro e platino che potrebbero durare milioni di anni. Se Apophis contiene questa quantità di metalli sarebbe utile smontarlo e riportarlo sulla Terra. Un solo meteorite potrebbe valere milioni di miliardi di dollari rendendo l'estrazione spaziale altamente redditizia. Eppure ci costerebbe di più riportarlo sulla Terra che non scavare questi materiali qui. Man mano che la tecnologia progredisce e vengono sviluppati nuovi tipi di razzi però ciò potrebbe diventare possibile. Anche se siamo al sicuro per i prossimi cento anni probabilmente vorrai ancora vedere cosa succederebbe se un oggetto come Apophis ci colpisse. Beh prima lascia che ti dica che sentirai il suono della collisione e saprai cos'è successo anche se sei a chilometri di distanza. Dovresti lasciare subito la tua casa o il tuo appartamento. Poco dopo l'impatto ci saranno enormi terremoti e molti edifici alti crolleranno. Quindi stare lontano dalle città potrebbe essere la tua migliore opzione se ne hai la possibilità. Ma non scappare in auto. Ci saranno enormi ingorghi stradali, tutti andranno nel panico. Andare a piedi o in bicicletta è la tua migliore opzione in questo scenario. Un ottimo mezzo di trasporto sarà l'aereo quindi se hai sempre desiderato prendere la licenza di pilota ora hai una buona scusa. Se hai tempo porta con te snack, acqua e un paio di calzini in più. È bello vivere vicino all'oceano o al mare ma in questo caso è il peggior posto in cui essere perché enormi onde di tsunami colpiranno le coste dopo l'impatto. Se vivi lontano dalla zona lo tsunami potrebbe impiegare 30 ore circa per arrivare. Avrai un po' di tempo per prepararti.